Se non si fosse capito io sono una testa matta e in quanto testa matta oggi vi voglio recitare un brano che mi piace moltissimo e mi commuove anche tanto dal film tutto su mia madre di pedro almodovar il monologo di agrado la splendida transessuale agrado ci parla di sé ma parla anche di noi parla degli esseri umani nessuno si sente escluso per favore agrado mi ha commosso ho visto questo film anni fa l'ho rivisto recentemente mi chiamano agrado perché per tutta la vita ho sempre cercato di rendere la vita gradevole agli altri oltre che gradevole sono molto autentica guardate che corpo tutto su misura occhia mandorla 80.000 naso 200 buttati perché l'anno dopo me l'hanno ridotto così con un'altra bastonata tette 2 perché non sono mica un mostro però le ho già super ammortizzate silicone naso fronte zigomi fianco e culo un litro sta sulle 100.000 perciò fate voi il conto perché io l'ho già fatto e l'ho anche già perso l'immatura della mandibola 75.000 depilazione definitiva con laser perché le donne vengono dalle scimmie come l'uomo fino a quattro sedute però se balli il flamenco ce ne vogliono di più è chiaro quello che stavo dicendo è che costo molto e che costa molto essere autentica signora mia e in questo non bisogna essere tirchie perché una più è autentica quanto più somiglia l'idea che ha sognato di se stessa grazie 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 grazie